Sì, è proprio lui. Ma cosa ti fare qui a quest'ora? Ciao ragazzi, sono venuto per salutare i ragazzi delle altre classi. Come cosa fate qui? Siamo in ritardo e siamo in un anno in laboratorio. Che lavoratore si tratta? Noi siamo la scuola di acconciatura. Vuole venire da vedere? Sarebbe piacere. Ti seguo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.